Ciao a tutti e benvenuti su Archidee! Oggi voglio mostrarvi come ho realizzato queste uova in resina. Per crearle ho fatto il mio calco con la gomma siliconica liquida e sono partita da un uovo in marmo come modello, quindi un modello di partenza già bello liscio e lucido. Se volete creare il calco di un uovo, il procedimento è lo stesso che si usa per creare il calco delle sfere e qui su Youtube c'è già un video che mostra come creare il calco delle sfere in resina. Quindi vi metterò nell'info box il link al video che vi sto dicendo. Poi se volete vedere come si utilizza la gomma siliconica liquida, esattamente la stessa che ho utilizzato per fare questo calco, vi metterò anche il link che mostra l'utilizzo di quella gomma. Per quanto riguarda tutti i materiali utilizzati, cercherò di mettervi dove disponibili tutti i link di affiliazione di Amazon e li troverete nell'info box, così se vorrete avrete il vostro riferimento per l'acquisto. Comunque, per prima cosa, ho preparato la resina per riempire questo stampo. Ho deciso di fare, nel primo caso, due colate e nel secondo caso, tre colate. Il mio tentativo è stato fatto perché, quando vado a riempire delle forme troppo profonde, molto spesso si creano una serie di bollicine che sono un po' antiestetiche e sono difficili da recuperare con la carteggiatura finale. Purtroppo il tentativo non è andato a buon fine, ho sicuramente avuto meno bollicine che negli altri casi delle colate che avevo effettuato e poi, man mano nel video, vi spiegherò anche quali sono i motivi. Allora, prima di tutto, nel primo uovo che ho riempito prima a metà e poi una seconda metà dopo sei ore, sono andata a inserire delle piume. Le piume, ve le ho fatte vedere anche in un tutorial di un paio d'anni fa, quando si inseriscono nella resina portano inevitabilmente con loro una certa quantità di aria che si va a incastrare in tutte le piccolissime parti di cui sono composte. Quindi, già le piume di per sé portano una serie di bollicine d'aria che sono abbastanza inevitabili e questo lo avevo messo in conto. Le bollicine che volevo evitare non sono tanto quelle create all'interno dalle piume ma quelle che si vanno a creare nel fondo dello stampo nell'ultima parte che viene colata perché è uno stampo che si va a chiudere verso l'alto e quindi non c'è una grande superficie da cui le bollicine d'aria che stanno nella resina possano fuoriuscire. Questo, insomma, è un primo tentativo. Penso che andando avanti dovrò cercare di fare uno strato più grande fin dove la sfera o l'uovo ha una forma più aperta. quindi non necessariamente dividere a metà e metà e poi fare un paio di strati proprio nell'ultimissima parte quella che va a chiudere. Oppure, un altro tentativo che voglio fare è quello di acquistare delle resine che abbiano un tempo di catalizzazione più lunga e che per intenderci sono le resine che vengono utilizzate per fare i tavoli river quelli che hanno due parti in legno e una striscia di resina nel mezzo. Quei tavoli si possono fare solo con delle resine specifiche perché altrimenti queste resine che utilizziamo la classica resina epositica che utilizziamo darebbe dei problemi in quanto si surriscalderebbe troppo perché la catalizzazione avviene troppo rapidamente e non avrebbe neanche il tempo di far fuoriuscire tutte le bolle d'aria su una superficie così grande. Comunque, nella prima parte dell'uovo non ho avuto problemi con le bolle si sono formate soltanto alcune piccolissime bollicine quelle portate naturalmente all'interno dalle piume ma sono state veramente poche e nella seconda colata ho avuto invece le bollicine che si formano nella parte superiore come vi ho anticipato come vedete sto aggiungendo alla resina trasparente una resina leggermente perlata e l'ho ottenuta con un ombretto in polvere che è quello che vedete nel video qui sulla mia sinistra quella scatolina con i tre buchi è un ombretto in polvere della pupa perlato un campionario che mi è stato regalato e questo ombretto mi ha permesso di creare una sorta di nuvole perlate all'interno di questo uovo e ve lo faccio vedere perché un po' di tempo fa forse un paio d'anni fa avevo già creato dei soliti con all'interno questo effetto di nuvole perlate e più di qualcuno mi aveva chiesto come si faceva e per me è stata una scoperta casuale vedere che questo ombretto dava questo effetto qui non so se l'ombretto utilizzato è ancora in commercio perché appunto era un ombretto di un campionario però potete provare con gli ombretti che avete in casa provate su delle piccole quantità di resina e vedete se riuscite a ottenere lo stesso effetto con dei colori che siano leggermente madreperlati e iridescenti di quelli che cambiano a seconda di come ci si riflette la luce del sole poi ho aggiunto intorno al mio calco dello scotch carta perché per tirar fuori la forma io ho dovuto fare dei tagli ai lati del calco altrimenti dal buco quadrato semplicemente non sarebbe mai uscita e avevo poi bisogno di qualcosa che mi tenesse stretto quella parte del calco una volta effettuata la colata e si possono mettere sia degli elastici che appunto lo scotch tirar fuori la forma dal calco non è stato facile è un po' un po' faticoso un po' laborioso e poi comunque c'è tutta una parte in più di resina che va limata e va tolta e anche in questo caso non vi vado a ripetere tutti i passaggi della levigatura e della lucidatura della resina perché alla fine sono sempre gli stessi e ho già registrato due video dove si vede come effettuare questi passaggi un video è relativo alle creazioni in resina e legno e un altro video è relativo alle sfere in resina la prima parte si può togliere benissimo con le forbici poi c'è tutta una parte che si può togliere con le lime per il gel unghie e poi potete procedere con le carte vetrate vi riassumo velocemente le carte vetrate che abitualmente utilizzo sono quelle da carrozziere quindi quelle che si possono utilizzare in acqua e sono la 400 la 600 la 800 la 1000 e a volte la 1500 dopodiché vado a utilizzare anche una pasta una pasta abrasiva lucidante che si chiama crema agli osso e come al solito vi metto il link informativo qui nell'info box quando si va a limare la parte inferiore dell'uovo si vanno a evidenziare tutte le bollicine e micro bollicine che si sono create a contatto tra l'uovo e il calco perché l'aria non aveva né abbastanza tempo né un'apertura sufficiente per poter uscire dal calco la levigatura successiva quindi vi permetterà anche di togliere una buona parte di queste bollicine ovvero quelle più superficiali poi magari quelle più grandi le potrete riempire con qualche goccia di resina UV ma ricordatevi che poi dovete levigare di nuovo quindi è una cosa che va fatta prima della levicatura finale e poi l'uovo va pulito bene perché tutta la polvere della levicatura si va a posizionare in queste micro bollicine e le enfatizza anche molto di più quindi il mio consiglio è quello di pulirlo con una spazzolina di quelle per i piatti e con il detersivo per i piatti e vedrete che poi alla fine del lavoro riuscirete a minimizzare l'effetto delle bollicine qui vedete la prima parte della colata per il mio secondo uovo anche in questo uovo mi sono voluta complicare un po' la vita e sono andata a inserire nella prima parte della colata alcuni fiori secchi tridimensionali che vengono dal Trentino Alto Adige e sono una specie di cardi sono molto simili ai cardi ma non so esattamente il loro nome mi erano piaciuti molto e li avevo lasciati essiccare all'aria quindi senza metterli sotto pressa e insieme ci sono anche altri fiori molto comuni sempre originari del Trentino che avevo sempre lasciato essiccare all'aria purtroppo alcuni di questi cardi si erano completamente sfatti cioè erano venuti via tutti i semi che assomigliano anche un po' ai semi dei soffioni ma non hanno la parte superiore aperta per cui quelli non sono riuscita a inserirli all'interno dell'uovo ma li ho inseriti poi in un bracciale se volete vederlo seguitemi su facebook o su instagram perché poi nei prossimi giorni completerò anche la rifinitura di quel bracciale e pubblicherò le foto comunque nella prima parte di questo uovo ho messo esclusivamente i fiori secchi poi andando avanti nella seconda e nella terza colata sono andata ad aggiungere alcuni brillantini l'errore che ho fatto è stato quello di aggiungere i brillantini direttamente nel calco per cui in alcuni punti si vedono gli strati probabilmente è una fissazione solo mia quella di vedere questi errori non è detto che poi siano visibili a tutti ma avrei fatto meglio ad introdurre i brillantini nella resina e poi a effettuare la colata questa è la seconda colata nello stesso calco come vedete ho introdotto altri fiori anche questi fiori come vi dicevo mi vanno un po' a complicare la vita perché essendo fatti di tantissime piccole parti possono portare con sé delle bollicine d'aria visto che la forma è tridimensionale non le vedrò mai quindi non riuscirò a toglierle in tempo e devo sperare che vadano su da sole durante la catalizzazione questo è successo per le prime due parti della colata e come al solito non è successo per la terza parte della colata che probabilmente ho fatto troppo alta quindi in definitiva il mio consiglio è quello che quando si tratta di forme tridimensionali lasciatevi una terza colata di uno spessore di al massimo un centimetro e forse in quel modo riuscirete ad evitare tutte le bolle io proverò ancora e ve lo farò sapere nei prossimi video nell'ultima parte di questa colata non ho girato il video perché mi sembrava un po' ripetitivo comunque ho aggiunto dei brillantini e dei pezzettini di corteccia di alberi e anche qui è stato un po' difficile tirarlo fuori mi sono fatta dare una mano da mia figlia e poi c'è stata anche in questo caso tutta la parte della carteggiatura l'introduzione dei pezzettini di corteccio mi ha portato ad avere ancora più problemi perché si sono create ancora più bolle d'aria che nel precedente uovo quindi le ho dovute un po' riempire con la resina UV almeno le più grandi e nota per la prossima volta non credo che inserirò la corteccia nello strato finale è meglio lasciarlo piuttosto liscio così che l'aria possa fuoriuscire più facilmente perché i pezzettini di corteccia hanno creato un ulteriore ostacolo comunque spero che anche se non sono perfetti questi esperimenti con la resina vi stiano piacendo spero che la mia esperienza possa portare un vantaggio anche a voi nel momento in cui vorrete provare a cimentarvi con delle forme un po' più complesse e adesso alla fine del video vi lascio anche la molding di un bracciale con le piume che ho fatto quando ho realizzato il primo di queste uova non so se vi ricordate ma un paio di settimane fa ho pubblicato il video in cui ho realizzato questo calco e il primo bracciale all'interno di questo calco in quell'esperienza avevo creato il bracciale in un'unica colata e infatti la parte superiore era piena di imperfezioni e bolle stavolta visto che l'ho fatto quando facevo anche l'uovo lo ho realizzato in due colate e quindi sono venute molte meno bolle poi questo è meno profondo dell'uovo e la superficie da cui può fuoriuscire la resina è maggiore in percentuale e quindi sono già molto soddisfatta perché rispetto appunto al primo bracciale ho avuto un buon miglioramento secondo me per andare ancora meglio di così dovrò effettuare tre colate e lasciare l'ultima colata di uno spessore inferiore al centimetro quindi invece che dividere la superficie a metà la dividerò più o meno in tre parti all'interno di questo bracciale ho messo le altre piume e le piume sono in realtà quelle che avevo trovato dentro le uova in vetro che ho decorato nei video degli scorsi giorni quindi come vedete non si butta via niente se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere il pollice su e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti se volete darmi una mano condividete questo video su facebook finalmente io vi saluto vi auguro una buona pasqua e ci rivediamo presto con il prossimo video ciao ciao